I topi d'auto continuano a tormentare Candelara e colpiscono con particolare frequenza il parcheggio di fronte alla chiesa e al cimitero. Anche per pochi spiccioli lasciati in vista non si fanno scrupolo di forzare le portiere o addirittura sfondare i cristalli, causando danni da centinaia di euro oltre al disagio e allo spavento. Anche durante le cresime con il vescovo ad ufficiare presso la pieve c'è chi non si è fatto scrupoli e ha raffato quello che poteva. L'ultimo caso in ordine di tempo risale a domenica scorsa quando durante la messa a un anziano parrocchiano sono stati sfondati i vetri dell'automobile parcheggiata ed è stato rubato il portafoglio con soldi e documenti. In più i ladri non hanno perso tempo e sono riusciti a prelevare 500 euro dal bancomat prima che la vittima si accorgesse del furto e sporgesse denuncia alle forze dell'ordine. Il malcapitato una volta scoperto il furto si era rivolto subito direttamente al parroco Don Giampiero Cernuschi per sapere se avesse visto qualcuno di sospetto a girarsi intorno alla chiesa o se magari avesse ritrovato almeno i documenti. Ma ormai era troppo tardi. I parrocchiani sono preoccupati e chiedono un intervento. Ecco l'appello accorato di Don Giampiero. C'è un problema della sicurezza e mi rivolgo soprattutto alle autorità della città, al sindaco e soprattutto per una questione di sicurezza. Infatti è successo ultimamente proprio domenica scorsa o l'ultimo, purtroppo non sarà neanche l'ultimo se andiamo avanti così, di furto di un borsello nella macchina. Perché è parecchio tempo che i nostri parrocchiani si lamentano, si rivolgono a me, ma io dico io cosa posso farci? Non posso intervenire, siamo in chiesa. Quindi c'è la situazione che vengono addirittura rotti i finestrini delle macchine, non solo qui al parcheggio antistante e la chiesa, ma anche al cimitero. quando si vedono un borsello oppure anche qualche monetina dentro la macchina, la vettura spesso vengono forzate o addirittura rovinate, scassinate. Io credo che sia più che mai necessario al giorno d'oggi anche per garantire una questione così di sicurezza per la chiesa, visto che non abbiamo telecamere, non abbiamo niente, le forze dell'ordine fanno quello che possono, non è che possono pattugliare dalla mattina alla sera. Quindi credo che sia più mai opportuno che anche il Comune investa un po' delle risorse attraverso un sistema di impianto elettronico di videosorveglianza. Ecco, credo che questa sia una questione più che mai urgente, la cittadinanza lo vuole e penso che interesserò anche la circoscrizione perché faccia pressione, credo che sia giunta l'ora. Insomma, attenzione a non lasciare mai oggetti in vista quando parcheggiate. Il prezzo da pagare per questa distrazione potrebbe essere molto caro.